Tutto quello che serve è il successo, tutto quello di cui ha bisogno la formazione dell'Igols Aprilia in questo momento del campionato è quello di continuare a coltivare il sogno salvezza, dando continuità al successo ottenuto nella scorsa settimana sul campo del Monte Fiascone. Un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi al Palameucci di Aprilia. Si affrontano dunque per quanto riguarda il campionato di Serie C, girone unico di Futsal, l'Igols Aprilia in maglia blu e la Virtus Fenice in maglia giallo-verde. Suo tiro in fallo laterale, bene dalla Mascoli, ancora combinazione dello stretto, c'è una possibilità adesso per l'Igols, il primo tiro in porta è arrivato al minuto 3 e l'ha scoccato la giocatrice con la maglia numero 9, si tratta di Vattone. Pica, rilancia in profondità, cerca e trova la sua compagna di squadra che poi riesce a scoccare, bravissima comunque la Mascoli nel girarsi e tirare in porta, Vattone, D'Alessio, prova la conclusione, ribattuta e poi il sinistro, ancora di Vattone. Pallone intanto buttato dentro, sfugge il pallone alla Mennella e poi la conclusione in porta che è stata tentata da Mascoli. La giocatrice con la maglia numero 4, la Sias, rimessa già battuta e poi la conclusione di prima intenzione da parte di D'Alessio. Mennella intanto recupera il pallone, lo cede subito a sinistra, cerca il numero la giocatrice con la maglia numero 11, a Terga, vince un paio di ripali poi calcia in porta, colpo sicuro, ospite perché al prossimo fallo andrà in bonus pallone perso dalla Terga, attenzione alla Cinti, Cinti conclude segna il gol del vantaggio un tiro di punta che ha lasciato in pietrita Mennella, dunque soluzione vincente da parte della giocatrice con la maglia numero 9. Adesso la giocatrice in maglia giallo-verde e poi il tentativo da parte della numero 2 Troncacci che sembrava essere andata a buon fine, invece alla fine il pallone è stato liberato. Viene coinvolta ancora Sias, Cinti che prova con l'esterno sinistro una giocata balistica notevole. Giondi apre il gioco a destra, Troncacci, D'Alessio, la conclusione di D'Alessio tiro che non impensierisce Pica e poi c'è il pallone conquistato da Giondi che riesce a pareggiare i conti, errore clamoroso da parte di Pica ha rilanciato praticamente dalle parti di Giondi che non l'ha perdonata. Gran gol dunque della giocatrice con la maglia numero 8 capitato della squadra e parità raggiunta dall'Igols ma c'è stato un regalo di Natale un po' ritardato dobbiamo dire dell'estremo difensore e poi dall'altra parte intanto c'è una spinta si prosegue e arriva il gol del vantaggio da parte di Mascoli. Botta e risposta, Mascoli è andata a segno. Giondi contro Pica, fischia il direttore di gara, non è Giondi ma Vattone a calciare porta e il tiro termina sopra la traversa. Non benissimo dobbiamo dire adesso prova a dare questo pallone ma non lo fa nel migliore dei modi e poi c'è la conclusione in porta. Non era assolutamente facile controllare questo pallone per Disi, D'Alessio si gira e calcia in porta non ha inquadrato però il bersaglio, D'Alessio sfuma dunque questa occasione poi D'Alessio va a rubare la sfera e va a calciare di prima intenzione. Nessuna delle due squadre riesce a far valere la propria personalità intanto c'è questo a sole e la conclusione in porta a colpo sicuro che è stata tentata dalla Terga. il capo però è finito, torna nuovamente Ligos con D'Alessio che prova con il destro e poi con il sinistro e il pallone termina in fondo al sacco, dovrebbe essere gol è così, ha segnato dunque D'Alessio che con convinzione ha provato prima il destro e poi il sinistro c'è soltanto D'Alessio in barriera, probabilmente servirebbe una giocatrice in più il tiro in porta non sembra irresistibile ma trova comunque il bersaglio errore di valutazione da parte di Mennella, il pallone infatti finisce proprio sotto le sue gambe arriva dunque il 3-2, due persone in barriera, avrebbe forse dovuto farlo prima altro tiro in porta, respinto nuovamente questa volta con l'autorità da Mennella ancora nuovamente da Ligos, Giondi, apre ancora per Leopardi che poi caccia in porta di prima intenzione dopo aver ricevuto un bel pallone da D'Alessio visto un fallo di mano da parte di Mascoli nel controllo, poi va a disturbare la stessa Mascoli la giocatrice avversaria e poi c'è una conclusione in porta da parte di Atterga sempre pica però, intanto D'Alessio aspetta a rimorchio qualche sua compagna di squadra c'è tanto questo pallonetto che termina sul fondo dopo aver colpito la traversa rimane dunque arroccato in difesa e poi arriva il gol a sorpresa, incredibile, ha calciato direttamente in porta la calciatrice con la maglia numero 13 Disi, non ce l'aspettavamo e non se l'aspettava neppure Mennella che non doveva intervenire in questa circostanza perché ovviamente il gol non sarebbe stato regolare ancora Atterga che lotta, perde però il mismatch con Mascoli a sinistra c'è la conclusione in porta e il gol da parte di Disi sul primo palo segna dunque la rete che probabilmente chiude i giochi di questa partita Disi che è andata a bersaglio nuovamente dopo aver segnato precedentemente questo incontro alla squadra della Virtus Felice D'Alessio, splendido lo slalom di D'Alessio che va fino in fondo con questa conclusione perentoria si è liberata nello stretto di due giocatrici avversari e poi è andata alla conclusione è riuscita dunque a segnare la rete della squadra che comunque ci sembra migliorata dall'inizio del campionato e finisce qui dunque questo incontro con il successo della Virtus Felice c'è 5-3 in casa del Liguez Aprilia che dunque dovrà cercare ovviamente di cambiare marcia di cambiare passo già a partire dalla prossima settimana, dal prossimo weekend deve infatti cercare assolutamente i punti salvezza che al momento che in questa circostanza non sono arrivati ed è tutto dunque da Enrico Pasquali Coluzzi un cordiale buonasera e a risentirci agli amici di Mondo Puzzano